Ok, oh che bello, quella parte subito Allora, allora Vediamo se riesco Ah, che freddo Vediamo se riesco a fare qualcosa nella mia vita Allora, ok, aspetta Andivido anche su Discord per caso volesse venire qualcuno Adesso vi saluto un attimo, poi ho visto che c'era gente però Vi saluto dopo per la condivisa Ciao Player, ciao Pando, ciao Quers No, comunque Pando non sei primo Ciao Diego, ciao Sharon Ciao Miki Ciao Wirf, ciao Landy Ok, boh Mi saluto tutti Allora, raga Boh, volevo parlare di Just Chatting Perché non c'ho voglia di giocare ad Among Esclare E quindi sono tornata nel mondo in cui ho giocato ieri insieme a Sharon Che quindi Sharon sa praticamente che la casa l'ho fatta solo io Cosa? Eh? Eh, comunque vabbè Questi sono dettagli No, è Player il primo comunque Ha ragione Player Allora Eh, boh, fine Questa è la vostra storia Ciao Foxy Allora Ciao Stortino, sono grande Allora, comunque Boh, problemi Quindi, boh Non volevo fare Among Us E ho portato semplicemente Minecraft Quindi, raga Se poi avete delle domande Poi potete farmene Se no io continuo Le mando In senta pace E via Con tranquillità Se volete darmi anche dei consigli Su cosa fare nella casa Perché tanto la casa la faccio io La figlina Quindi Che è il Wirf E boh Ma prima non ero su Ian No, ma aspetta Ma chi? Cioè, se era Se parli Vabbè, c'ho benzina Comunque Eh, dimmi Player E veramente le ha trovate Ophi è quello che ha minato Quindi ha trovato i diamanti Ma Cioè Sinceramente Foxy non ha fatto nulla Alla fine Foxy non ha fatto nulla Ophi si è reso utile Trovando i diamanti Cioè Penso che li abbia nel suo inventare In questo momento Tutto il resto dei diamanti Però ok Ho dovuto dargli pure il piccone Perché pensavo di aver perso tutto Ma per fortuna Cioè, no Invece sì Le attrezzi in diamanti Le ha persi tutti Perché è caduto nella lava Poverino Rip Cioè Rip Attrezzatura in diamanti Ritopando Foxy non fa nulla Sì, inutile Foxy In questo mondo Comunque Foxy Cioè Te lo dico Foxy Il tuo letto non servirà più Perché il letto sarà blu Sappilo Non ne frega niente Di cosa volete voi Lo faccio blu E basta Avete rotto Oddio Ma io non l'ho rubato Ma che vuoi Io non li ho rubati Anzi Ho aiutato Ofi A non perdere il loot E tra poco Lo perdevamo in due Il loot Piuttosto che da soli Non l'ho finito tutto Penso Sì, ok Aspetta un attimo Che ho dei problemi Allora E quella là sopra Foxy Che cazzo Cioè Scusami Questa qua E questa qua Cioè Buona fortuna Cioè Qua sappiro Che c'è bisogno Di due letti Ma Ovviamente Qua Devo farveli io Perché Sennò Figuratevi Se voi Vi ricordate Di farli Quei due letti Ciao 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 Mattix Bernon Vabbè Oh ragazzi Cioè La tastiera Può far rumore Cioè Non ci posso fare nulla La tastiera Fa rumore Quindi Il rumore Ve lo tenete In questa sera Se finisco tutti i compiti Faccio Faccio la live Stasera Stasera Sì Stasera forse la faccio Se finisco Continuo a dire Se finisco tutti i compiti E poi E poi Questo Allora Ciao rage Sì Sì Player Allora No I letti Io ne faccio Sempre Tre Fox È diversa La storia Caco Caco Per essere mod Bisogna essere Molto attivi E per lo più Devo decidere Io quando Ho bisogno Di mod È un problema Cioè È un problema Perché non mi ricordo Dove ho messo il legno Penso qua No Era qua Di fianco Infatti Ok Mi si spegne Il telefono Ogni tre per due Mi dà fastidio Quindi provo a tenere La live accesa Così Vediamo Senza che magari Parli così Ok Ah sì Ciao Michi Non avevo salutato Michi Ops Povero Michi Tipo Michi No Magari Non con i rapislazzoli Ok Allora Dimmi Dimmi Sharon Dimmi C'era il letto Mezzo invisibile L'avete visto Pure voi Spero Nelle casse Mettici un cartello Eh sì Devo fare Gli item frame Non devo Cioè Il problema È che gli item frame Non mi ricordo Cioè No sì Mi ricordo Come si fanno Ma devo ammazzare Talmente tante mucche Che non ho voglia Di ammazzarle Cioè Ci vuole troppo E vabbè Ovvio Quando che non ti cagano Nell'altra video lezione Se ti intrufoli Cioè Che cazzo è Devono pure cagare Ma no Cioè Chi se ne frega Questi li devo cuocere Allora Sì Il letto prima era invisibile Boh Non so il perché Però ok Vabbè Cazzi tuoi Non gliene frega Ma niente Probabilmente No Questi mi servono Poi No vabbè No Mi ero dimenticata Una cosa Dove sono Canne da zucchero Dove sono Buonasera Non le troverò mai più No Amiche te l'avevo già detto No Ah Le hai lasciate Di diamanti Ops Vabbè Dopo forse Gli le rubo Forse Dipende Dipende da cosa Se mi servono No in effetti Uno glielo rubo Sto cazzo Cioè il piccone Me lo rifaccio Aspetta No tre me ne devo rubare Vabbè dai Tre me li posso permettere Dai Cioè Non penso che gliene freghi Il tre diamanti Allora Ciao Hendrix Allora Aspetta Poi Ora Devo vedere come si fa Mi vado ad ammazzare Ecco perché me ne servivano 14 Allora Anche rottura di parte Ok Sì va bene Sharon Ma in effetti Io potrei anche Giocare a Yandere In questo momento Cioè Tanto sto facendo La live Just chatting Solo che c'è scritto Minecraft Però vabbè Cioè Posso fare quello che voglio Nella mia live Posso anche portare Yandere Chi se ne frega Ma Ok ah ma amici ma l'hai cambiata penso cioè se l'hai cambiata ok non lo sapremo mai perché non ho di essere acceso sì magari se riesco a farmi un libro nella mia vita potrebbe essere un'idea io ho un problema ma guarda chi sa ma io lo scrivo just chatting perché perlomeno la gente non entra sperando che io possa far giocare la gente cioè capito cioè su minecraft la gente può giocare insieme alle altre persone però non si deve aspettare quello perché io non lo faccio non me ne frega niente soprattutto su minecraft che è un gioco tranquillo che mi rovinano poi rovinano il gioco e rompono il cazzo le persone scusatemi però beh buonasera non troverò mai più una canna di zucchero non la trovo mai più vero? sì c'è un canna di zucchero mi ha perso perché ma 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 è stupido ma ha dei problemi ma come cazzo fai a morire così? non ho parole ciao xt allora ma perché avevano traf... ok vabbè io non io non mi esprimo e boh cioè non so più dove è la canna di zucchero me la son persa mi son persa la canna di zucchero ha dei problemi come cazzo faccio adesso? forse l'ho messa qua no qua ho messo la mia porta cioè sì ma è un problema non trovo più non trovo più come cazzo si chiama già dimentico pure i nomi non trovo più la canna di zucchero ma c'è pure il mini zombie vieni caro vieni due sono pure due sono pure due ma e l'altro? sì ma sta calmo eh ma attraverso i muri? ma sì serio? ok sì ma io non l'avevo messa una sopra l'altra una volta eh Foxy cioè una volta erano distanziate ciao Giovanni no ho sbagliato no no spero 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 ho sbagliato F3 infatti avevo sbagliato siamo ad altezza 16 qua away ma c'è away perché ho detto cioè io non ce la posso fare oggi no comunque xd c'è un motivo per cui non c'è scritto c'è scritto solo just chatting vedete raga perché bisogna scrivere just chatting perché non lo capiscono neanche se c'è scritto just chatting io non gioco con le persone al massimo gioco con quei tre che ci sono nel server con quei tre io cioè io sono uno di quei tre che c'è nel server cioè con le altre due persone che ci sono nel server ma ho sbagliato strada c'è un problema sì ma dei problemi non so più dove cioè non mi ricordo non mi ricordo dove era la cesta che avevamo lasciato io forse era di coabo no comunque non penso xd che si possa a prescindere non penso che si possa no non mi sono perso dovrei cioè forse non riesco a tornare a casa e questo non ve lo assicuro però la strada dovrei averla trovata no aspetta non era di qua precisamente dov'era ah no ma qua era dove era morto dei silverfish no no aspetta no mi sto perdendo la caverna non l'ho scavata io quindi non mi ricordo nulla qua era dove era morto dei silverfish non è dove c'era la caverna che volevo trovare ciao artics allora eh sì lo so infatti infatti è quello che stavo facendo prima il problema è che io non so dove devo andare quindi spero solo ci va a fare così aspetta oh l'ho trovata a caso ma l'ho trovata allora no non c'era niente boh e io boh definitivamente perso la canna da zucchero c'era definitivamente persa cioè non c'è più c'è più speranza no e vabbè raya cioè ci sono dei problemi cioè ho dei problemi di orientamento se la caverna non le scavo io scusatemi vabbè vabbè ciao buonasera magari se ce la facciamo allora no ma aspetta ma ho sbagliato cioè riesco a sbagliare strada pure così una parola ciao Fabio era era di qua se mi ricordo bene ciao Martina l'ho trovata finalmente allora boh dopo forse vado a giocare a Yandera che è più bello mi piace di più per adesso cioè non so che fare cioè dovrei aspettare cioè dovrei aspettare perché in questo momento non ho la canna da zucchero perché boh l'ho persa non so più dove l'ho lasciata è scomparsa la canna da zucchero io non so più che fare prima sapevo che fare ma niente cioè se scompare mi sconnetto e poi allora stacco questo e attacco Yandera no svegliato stavo facendo una cavolata mi si chiudeva Minecraft allora spero fosse nei download se mi ricordo bene se era qua comunque allora sì ok perché non mi ricordo se non so se non usano città e nonna aspetta fammi aspett anzi per provare un'altra che mista che mista le punti che faccia città e nonna così per come me non lo toglie ciao player ciao fuoco ciao 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 Nicola e questa è quella che ricomincerò sempre visto che non lo so quella che ricomincio sempre basta perché in un altro in un altro voglio fare la voglio fare la run pacifica cioè quella che puoi eliminare i tuoi puoi eliminare i tuoi rivali senza ucciderle infatti ad esempio con Osana io ho rovinato tutti gli eventi fine comunque questa cosa dei cheat non è che vada però non è che mi piaccia molto non va cioè scusatemi ok tutto però cioè vabbè non ha senso ok questa cosa dei cheat non mi piace perché non va cioè buono parole ciao Pietro meglio Among no meglio Among niente perché su Among poi ci sono gli hacker che mi rompono il cazzo quindi Among lo faccio poi perlomeno i single player non mi rompono il cazzo questa cosa no no sono seria questa cosa che veramente ah ma qui stavo usando la tastiera scioccata aspettate no niente ah e vabbè intanto ho bisogno di dare la foto di senpai no scadabolo niente di che ma no ma perché cheat cioè so i tasti con cui bisogna aprirli ma il problema è che non mi vanno quei tasti non ha senso questa cosa non è che mi piace non è che mi piaccia molto cioè scusatemi si aprono in un modo mi si devono aprire in quel modo non con altre 30 modi che mi spiegano su youtube ma sei tu un gioco di merda cioè ma va a fare in culo ma Among Us sarà un gioco di merda non sto qua cazzo mi significa scusami si infatti ma la faccio sping di studiare Gigi e Fox il problema è che se ne vanno ad andarsi qua ve ne andate ragazzi ragazzi andatevene piano piano tutti che bravi bambini ora tu tu leader club tu eh no niente non volevo nulla no sta fermo sta zitto non hai visto nulla successo qualcosa successo qualcosa no e allora bene sta tranquillo tranquilli mamma mia non sto facendo niente di che sto ammazzando solo persone solo tipo il leader club del club dell'occulto niente di che aspetta 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 non mi sente sto pezzo di merda entra forse lo hanno ma no sta zitto ok non so come non l'hanno visto boh ok sì ma state tranquilli non succede nulla allora 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 poi per lo più è solo una demo questo gioco Among Us invece è il gioco già completo praticamente quindi non mi dir cazzata che è più bello quello dai sì lo so che prende fuoco ma non mi ricordo se si può fare anche tipo con aspetta sì amici però svegliatevi un pochetto eh solo un pochetto svegliamoci un pochetto no forse non ce la faccio con lei ah ma c'è l'occult club che rientra no no dimmi che non ce l'ho con c'è un problema devo ammazzare tutti quelli dell'occulto sta zitta sta calma mamma mia oh devi calma si vedono solo le gambe non possono dire nulla magari è accovarciata non possono dire nulla raga cioè si vedono solo le gambe magari ecco ok no magari mi possono dire qualcosa eh ok vieni vieni cara carissima la prossima volta non entri ma come non ha senso sto gioco ma che cazzo mi significa sei tu che non sei il senso del gioco è diversa la storia non mi dir cazzate che sto gioco non ha senso svegliamoci no no cara cara no non puoi entrare cara cara no 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 carissima no no tu non puoi entrare carissima abbiamo un problema raga abbiamo un problema che se la prof scopre che ci sono i corpi lì non mi piace non mi piace sta cosa quindi cioè boh dobbiamo trovare un modo però non ce la faccio in tempo perché le stanze sono divise in un modo incredibile cazzo ecco niente vabbè ammazziamo la gente la gente a caso vabbè cioè ormai cioè ormai mi hanno scoperto hanno scoperto tutto cioè c'è cattura di palle no no Foxy dopo cioè c'entrerò poi dopo la zitta no 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 Sì, sì, sì. Raga, penso che alla fine della giornata Sarà morta a metà scuola E tra poco devo bruciare pure l'arma Tranquilli carissimi Che adesso morite pure voi No, no, tranquilla cara Che tu non fai nessuna foto Ma aspetta, ma carissima Ma c'era una segretà sempre... Vabbè Facciamola in pace Piero, ma ti svegli Ti svegli, cazzo Cioè ti svegli Cazzo, ti svegli che è sto gioco Ha più senso diamo un gas Te lo posso assicurare Tranquilla cara Ma no, non penso che... Non lo so, sai, non mi ricordo Boh, adesso vedo Sicuramente posso lavare l'arma Non lo so, per adesso l'ho lavata ma non serve... Cioè non è che mi serviva molto lavarla raga Vabbè, l'ho lavata ormai Ho pure ripresa, quindi non è che... Aspetta, vado a vedere No, ok, boh Non dovrebbe essere più oggetto che boh Non lo so Ma tu stai ancora parlando al telefono Ma è Raibaru? Ah, sta arrivando Raibaru 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 Vabbè Buonasera Allora Sì, vabbè, ma chi se ne frega Cioè, raga, intanto... Capito? I bambini sono quelli come Piero Che dicono che fa cagare sto gioco Fa cagare perché loro non sanno neanche cosa... Non sanno neanche cos'è un senpai Non sanno niente di anime, manga e qualcosa Capito? È per quello che gli fa cagare Se guardassero anime, manga e altro Capirebbero più la storia Capirebbero che senso ha fare sta roba Ma invece no Loro dicono Fa cagare a prescindere E il rituale non lo faccio più per i ragazzi Perché... Cioè... Ci vuole troppo tempo E penso di non avere il tempo di trasportare il corpo Fin laggiù Anche perché ho un minuto E un minuto non mi basta neanche... Non mi basta neanche per... Vabbè Queste qua non si sono accorte manco che ci sono di corpi Ok Tu che cazzo ci fai qua? Vediamo se riescono a scoprire Eh? Non ho capito Sono triggerata quando la polizia è scappata Quando ha visto Agliano Ma di solito lo fanno quando è diventata un essere orrendo Beh tanto ormai tutta la scuola è morta Quindi poi... Cioè non so a cosa serve Cioè ho chiuso praticamente tutti i club Non lo so Ho fatto chiudere tutti i club Ma il rituale... Allora io fuori live Il rituale lo faccio anche dieci volte Quello è il problema Sì sta calmo Mio Dio Mi fa venire l'ansia così Allora No ho sbagliato Dovevo dinancellarlo Dei problemi Vabbè basta anche risettare tutto Niente Solo che non sono riuscita a fare il rituale Ho ammazzato a metà scuola Magal se non riesco a fare il rituale Ammazzo a metà scuola Aspetta Ma il coltello col fuoco è una mod di merda Capito? Perché la puoi attivare anche senza i cheat Non ha senso sta mod Cioè Cioè non ha senso Però ok Allora Vediamo se riesco a fare il rituale Allora Ciao Ash comunque Poi vedo se scaricarmelo Ash No no Bastano cinque persone a caso Landy Basta che ne ammazzi cinque Dovevo ammazzare cinque persone a caso E metterle nel cerchio Il problema è che ammazzare cinque Cioè Solo ammazzare cinque persone È diventato impossibile Su Yandere Ah Ah sta arrivando Ok Ok Ma raga aspettate Sì sta calma Raga io non mi ricordo Sì va bene Non ti sto di fianco Mio Dio Ti dà proprio fastidio Ti sto di fianco Cazzo No no Ma Va Va Te lo dico io Te lo dico io Ma perché io non posso stare in sto club Me lo dici? Perché non posso stare in sto cazzo di club? Mio Dio Che fastidio Ecco no Vabbè Ragazzi Allora aspettate Ce la posso fare nella mia vita? Ce la devo fare Cioè perlomeno No ma è morto quello più No Ma è morto il mio preferito Ma io ammazzo sempre il mio preferito Rip Cosa non lo fare? Non lo fare cosa? Ah no Ok ho capito Cosa non fare Ho capito Eh perché Ok Non devo ammazzare a cane No ma Perché No Cioè vabbè Ma c'era pure quella del consiglio studentesco Se no era fattibile Era fattibile Senza quella del consiglio studentesco Ma deve arrivare pure quella del consiglio studentesco A rompere le palle Io non lo so Dio santo Ciao Giacomo Non è possibile Non è possibile però Si può giocare così Era tutto più facile Quando non c'era il cazzo di consiglio studentesco Invece hanno dovuto aggiungere pure il consiglio studentesco Che rompeva le palle Io non so cosa se Però Ma c'è la Ma Raga vabbè Cioè Piero ciao Cioè Fai in tempo ad andartene tanto Cioè buonasera Hai rotto Piero Se non ti piace sta live Te ne puoi benissimo andare Te l'ho già detto Le live di Among Us Le faccio la sera Non il pomeriggio Il pomeriggio mi rompo il cazzo Di farle live di Among Us Quindi svegliati E abbi un cervello a volte Cazzo che avrai nove anni Svegliamoci Dio santo No ma rip Ma rip Cimice Scusami Non corro più Mamma mia Ti rompi così tanto le palle Se corro Mamma mia Oh sta qua Quanto mi sta sul cazzo Allora Allora tu Fermati Ti devo Boh Ti volevo Mi volevo complimentare con te Sei molto utile Sei un bravo Boh Non lo so Ti devo fermare a te pure Cioè mi dispiace Ti devo fermare Eh così Così No no aspetta Aspetta ancora Aspetta ancora Aspetta Caro caro Deve ancora aspettare Perché boh Perché sì Eh scusami Non volevo Diventare noiosa Scusami No vabbè Shin se n'è andato Che persona Inutile che sei Shin In cazzo Caro caro Ti fermi un attimo Cioè devo Boh volevo chiederti Boh c'è una bella giornata Lo sai no Cioè Anzi Anzi Ok allora Boh non dubbi No no Questi qua però no Ti prego Oh cazzo Ah ma non hanno visto me Ti prego Dimmi che non hanno visto me Perché sennò Questi qua Non li posso più parlare No No Giuro che si chiama No 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 Tu muori No no Cara 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 no 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 Tu cara Non puoi fare nulla Nella tua vita Zitta Veloce 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 No non è un corpo morto Cosa hai visto Ok ce l'ho fatta Raga ce l'ho fatta 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 Basta Ce l'ho fatta Sì Beh Ce l'abbiamo fatta Ok ce l'abbiamo fatta Basta Possiamo ammazzare tutti Abbiamo il potere di ammazzare tutti Adesso Cioè ad esempio Iniziamo dalle prop Perché mi hanno rotto Il cazzo Grazie Ah che male alle orecchie Statevi calme Ho ammazzato pure sta qua Per sbaglio Vabbè dai Non ci deve andare nessuno Basta che copro A cane A cane A cane A cane sta calma E tu che fai Tranquilla cara Tranquilli raga Tranquilli Non succede nulla Mi sto ammazzando solo le orecchie Non posso ammazzare il senpai Con questo mod L'ho già provato E' la prima cosa che ho provato No cara Non scappare Ma Sta qua E' ignifuga E' ignifuga Mamma mia Ragazzi ma guardatela come corre Flash Flash Cazzo Mi sto ammazzando le orecchie Però sentiresti qua che urlano Devo andarmene Ma raga Mi dà fastidio che sta qua non brucia Che fastidio Ma ragazzi ma non dovete scappare Cioè Cosa scappare No No Shin Ho sbagliato Vabbè Potrei ammazzare anche lui Non è che Raga Vi faccio anche vedere un altro modo per perdere Cazzo Sì Ti muori Sì Raga Cioè Li prendiamo tutti tanto Adesso li ammazziamo tutti Ciao cara Ruff Devo chiederle una cosa Prenda fuoco Grazie Boh raga Non lo so Cioè Mi piaceva farli prendere fuoco Eeeh Pegasò Non c'è Non l'ho fatto Ma in C'è L'ho fatto per poco Ma in Mi sono stufata Mi dispiace Mi dispiace Finalmente mi posso vendicare Su di questi Cioè Sono fastidioso Morite Tutti Antonietta Sì Antonietta Sono femmina Ehm Boh Ragazzi Cioè Avete ragione Aspettate Andiamo nel bagno E lo sciocquiamo Aspettate Oh Non funziona No ma no L'ho buttato Dove l'ho buttato Raga Aspettate Di problemi Ecco Guardate Cioè Boh Ok Ah raga Mi sono dimenticata Di ammazzare Rosana No Caro Rosana Tu non puoi scappare Senza che io Abbia detto No no Raga Puoi morire A città No Senpai non si accorge Di nulla Boh Ok Senpai Ah ok Si è accorto Finalmente Era anche ora Un po' stupida Senpai Ehm Carissima La porta Allora Allora Ehm Boh Ragazzi Non so che fare Potrei ammazzare Tipo questo club qua Potremmi rubo i fumetti Guardate Ciao amici Guardate Indovinate come si prende fuoco Così Si No no Ma non me ne posso prendere Cioè i fumetti Si Manga Volevo dire Ho detto Come Che deficiente Del cazzo Vabbè C'è mica Ma Ma C'è mica Te ti nascondo Molto bene Cara Non te ne andrai Con la foto Tranquilla Non so se la prenderà Non la prenderò mai più Ma Oh Cara Fermati Fermati Cara Fermati Cara Fermati Fermati Ecco brava Tu sei ancora viva E Boh 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 Cioè Basta Mio dio Mio dio Ah ma no Guardate Ma ragazzi Cioè Ma cara Ma sei ancora viva Tu Ma Budo Pure Spaventato Ma Poverci Volevo che si salvasse Ma Mi dispiace E' andata male pure per te oggi Ma Oh rude Ma pure tu non ti sei ancora bruciata Ma brucia E brucia pure tu Mio dio Piero Mio dio Bravo Grazie Chiunque l'ha fatto Grazie Chi è che l'ha fatto Bravo Fox Hai fatto bene Fanculo Piero la prossima volta che Porta Among Us Svegliati Che non ci potrai più essere Sei un coglione del cazzo Che deficiente di merda Che sei veramente Sei proprio un deficiente di merda Per una live che faccio Che cambio gioco Non ti svegli Cazzo Ho detto che stasera portavo Among Us Ti ho detto di andartene Se non ti piaceva il gioco E tu continui a restare Sei un coglione del cazzo Ma ti svegli Cazzo Sì Antonietta Ce l'ha Roblox Ma non lo uso Praticamente Dunque ragazzi Per mettere un po' Cioè suoniamo un po' Un pochino Cioè volevo solo suonarvi un pezzo Così perlomeno Si allegge e arriva la questione Ma in tutto questo suono Eri morta Pure il preside È nifugo Raga Cioè Rip preside Raga Cioè Bisognava alleggerire Un po' la questione Oltre che lag Che bisogna alleggerire Tantissimo Però vabbè Quello è un altro problema Aia Eh raga Cioè Raga Non so dove sia Oruda Quella lì che Legge il libro Mi dà fastidio Non trovarla La voglio ammazzare Ah ma l'ho già ammazzata Ops Ah L'avevo già ammazzata Ah Se vuoi dire non averti ammazzata Scusami Leonardo No è Leonardo Non ho avuto voglia di cambiare il titolo Però ho cambiato gioco Cioè all'inizio ha fatto un po' di Minecraft No raga Cooking mama no Vi prego Tutto ma non cooking mama Dai Va bene così Va bene così Vabbè Martino Non spam E praticamente questo è un altro modo per perdere Perché praticamente Cioè è morta tantissima gente nella scuola E la scuola chiude E via E quindi niente Cioè Quindi niente Perdi così Quindi non ha senso usare sta mod per ammazzare tutti Cioè se la vuoi usare per ammazzare Solo Osana e Raivaru Sì Però se invece la vuoi usare per tutto No Cioè se vuoi usarla per ammazzare tutta la scuola Invece non ha senso farlo Appunto perché Cioè Perdi così poi Se poi ammazzi tutti Perdi così Perché senpai cambia scuola Eh raga Si Si perde così Raga Qualcos'altro che volete farmi provare? Cosa Cosa volete che io faccia? In che senso Randy la moto? E vabbè Ma mi avete dato una mod Che può uccidere praticamente tutti E ho ucciso tutti Cioè Vabbè Capito? Era solo per spiegarvi Che quello era un modo per perdere No Dauntless raga Non lo aggiorno Da decenni Cioè Non ce l'ho aggiornata Quindi Dauntless È proprio Improponibile Non posso farlo Ecco Michi Mi spieghi Come si fa Io non mi ricordo Come si fa No raga Among Us lo faccio la sera Raga Among Us lo faccio la sera Raga Among Us lo faccio la sera Intendo altri giochi Oltre Among Us Perché Among Us lo faccio la sera Dauntless Vabbè Cioè raga Non lo aggiorno da secoli Ci metterei 30 anni Ad aggiornarlo Sì ma non mi ricordo Come si fa Capito? Cioè mi ricordo Che devo scrivere Love and Justice Ma poi c'è Con la bacchetta in mano Ma poi non mi ricordo Come si fa Perché non mi diventava Una Sailor Moon Bella Diventava Cioè non diventava nulla Diventava lo sgorbio Che è Cioè non mi dissocio Cioè è carino Però cioè Dispiace Diventava una Sailor Bella Cioè diventava La Yandere Perché devo prendere questa Io mi ricordavo Che facessero così Prendi questa Ah no ma tranquilla Tranquillo Cioè Love and Justice Poi mi realizzavo Facevo così Tipo Vedi non funziona Non va Non mi piace Sta cosa Come si diventava Una Sailor Moon Guarda vedi Ho scritto tutto Non va Non mi piace Sta roba Scusami Non corro più Scusami Divento nulla Ma non penso Che l'abbiano Torto Però non divento Nulla Cioè Magari se non Premo questo Mi va anche bene Non divento Non divento Nulla Caro Mi fai entrare Nel tuo club Sì sì Non è solo Che boh Cioè Voglio i tuoi I guanti Sono carini Non voglio Anche una maschera Questa qua Ma non volevo No Volevo Indossarla Ho sbagliato Era carina Questa Guardate Sono bellissima Che ne dici Sono bella Ti piace Ti piace il mio look Non mi piace No Non mi piace Lui non piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non funziona Capito Non funziona Love and justice Non funziona Non funziona Dai Love and justice Allora Cioè No Non so Ma non funziona Volevo diventare Una sailor moon Non mi funziona Sailor moon Guardate Adesso mi tolgo la maschera Non me l'ha fatta togliere Io voglio togliermi la maschera Come si toglieva la maschera Ah ecco così Ecco Io diventerebo Non lo so Voglio una maschera Oh Mettiamo questa Volevo metterla Non renderla Guardate che carina Che sono Brutto no? Ti prego Sono un snorchio Ok Hai visto come si fa Eh? No raga Non fanno piegare Ste maschera Cioè Meglio quella Meglio quella che usavo prima Fanno schifo No no Quella lì fa schifo Prescindere Quindi mi piace lì più questa Basta uso questa Troppo carina questa Prendo la bacchetta Prendo la Prendo la santa bacchetta Poi Riescrivo Ok Love And Justice Ho premuto C due volte Riprendo la bacchetta E non funziona Una gialla bacchetta Non è che si Bugga Perché lo sto facendo Con due controlli Diversi Vediamo Love And Justice Dis Faremo così Non funziona Alla fine Devo Editemelo subito Cari ragazzi Però Aspettate Allora Prendiamo la bacchetta Magica Super bella Love And Justice Dis CC E Non funziona Bene Non siamo male Ragazzi Non funziona Non funziona La mia bacchetta magica È un po' scrausa È scrausa La mia bacchetta magica Non funziona Ma io sono da pc Gabriele Dica 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 Allora Ragazzi Troppo che mi metto Ad ammazzare Tutti Se non mi funziona Potrei salverare Ok ragazzi Questo è mio Questo è il mio lato Non dovete venire Neanche per scherzare No no tranquillo Gabriele Cioè Raga Non dovete chiedermi scusa Cioè Io vi rispondo Solo Vi rispondo Vi dico Vi rispondo Solo Al Vi rispondo Solo C due volte Allora Prendo la bacchetta Love And Justice E ma il problema È che lo devo premere Tre volte Se no Non funziona mica Ragazzi Cioè Devo premere tre volte Praticamente C'hai capito? Non funziona Se lo devo fare così Perché Cioè In justice C'è la C Love Perché Cioè Praticamente Io devo Prendere questo Scrivere love And Justice Justice Si scrive con la C E la C La uso per accovacciarmi Quindi O faccio così E poi Prendo la bacchetta Con R E poi Premo questo Ma non va E non lo so Boh Non lo so Raya Beh Sentite Prendo la mia bacchetta Vado ad ammazzare tutti Anzi Facciamo così No ma lei non lo raccoglie Non gliene frega niente Cioè Aspettate Vai 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 Prendila Sbrigati E oggi Incolperò te Di tutte le tue colpe Di tutte le colpe Di questo gioco Che non funziona Giuri Ma raga Io adesso Voglio ammazzare un po' di Tu sei su DS No non sono su DS Se vuoi ci entro però Ma Perché non ho Google Nella barra No mi sto triggerando Raga Aspettate Mi triggero Non ho Google Nella barra Cosa sto vedendo Nella mia vita Non ho Google Chrome Nella barra Perché non avevo Google Chrome Nella barra Ma Ok Ma che moto Mi spieghi che moto No raga Io non so di nessuna moto Ve lo giuro Dimmi che moto Dimmi che moto Dimmi che moto Che lo faccio in questo momento Invece di ammazzare le persone Discord Apre il disco Io devo accedere a Discord Ci capiamo Che devo rimettere la mail Tutto No no Che dico Vediamo Mai non salvarlo Ma io non ho mai visto Ve lo giuro Non pensavo si potesse fare Allora Poi ti sposto Sharon Allora aspettate Ma Qual è la chiave Raga Quale chiave Cioè Dite Aspettate Fatemi provare Cioè Fatemi provare Fatemi vedere Quale delle due chiavi Perché Se no Qua Non si può fare Allora Iniziamo col prendere la radio Se adesso me lo ridici Dovado solo prendere la radio Perché voglio la radio La radio La radio La radio Me la tengo Me la tengo Ma scusa Ma se io la metto Di fianco a lei Anni Non la sento Basta saperlo E' un po' sorda Poverina Ma Ok Che paura Sì Vabbè Dai Foxy Ci sta La figlina Vai Sharon E' ancora tempo Per dirmelo Dimmi Aspetta Vediamo Sharon Non si è messa Nessun Canale vocale Quindi Questa è mia Non ci provate La mia radio Non si tocca Neanche la mia bacchetta magica La mia bacchetta magica Di Magical Girl Per questi minchi E' mia E' mia Giriamo 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 Non penso Non penso che C'è Niente Questa cosa Però Non lo so Me li prova A togliere In questo momento Sì Ti sposto Sharon E ma Sharon Ah no Ecco Non la vedevo Scusate Sposto In giochiamo Ok Allora Giuli Giuli Mi senti Sì Ti sento Giuli Sì Ti sento Ti sento Ma aspetta Ma mica ho il microfono mutato No Il microfono mutato Sono mongola Aspettate Oh Non mi fa togliere Il blocco del microfono Mi lagga Quando sentiranno Oh mio Dio Sì ci sono Scusami Ma il microfono non c'è Per sbaglio Allora Prendi la bacchetta Presa Discrivi la frase Love And Justice Rialziti Riabbastiti Rialziti Prendi la bacchetta Premiere Non funziona Fatto Non funziona Non funziona Aspetta Prova Aspetta Prova a scrivere Prova a scrivere Love And Justice In un altro modo Love Deve essere staccato Ma non No Perché non mettono Gli spazi È impossibile Si apre la mappa Se mette lo spazio Quindi non è possibile Non possono avere Lo spazio In teoria Ci dovrebbero Di poi Sono staccate E lo so Che sono staccate Ma se faccio così Love And Justice And No aspetta No ho sbagliato a scriverlo Ho sbagliato Aspettate Aspettate Devo riscriverlo Aspettate E se dovete riscriverlo Allora Eh lo riscrivo Love And Justice No infatti Non cambia nulla Ciao Ciao Non lo so Faremo quello Che hanno chiesto loro Ok Quindi Devo prendere Voglio i guanti Perché sono belli Non voglio le maschere Non lo rompe per cazzo Quello della moto Le chiavi si trovano Nei club Eh Si trovano Nel club Negli angoli Le chiavi si trovano Nei club Nei diversi club Diversi club Negli angolini Siamo certi Uno penso che sia Nel karate Quella club Nel karate Fatemi Fatemi vedere Se è ancora così Perché io mi ricordo così Hai detto Negli angoli No Si Paura Oh sta qua Ma mi sono dimenticata La maschera Mannaggia a me No Comunque Non vedo le chiavi Comunque Giuri Forse Ok Andiamo a giocare a tutti i club Ma a giocare a tutti i club Oh non lo so Ma Mi dite solo il nome Di come si chiamava La cosa per Le chiavi Per Per farla funzionare Sapete se Avessero un nome Beh Io mi credo Ci sono le chiavi Nei club Si sbloccavi E boh Ci salivi E poi Perché Cioè C'è una chiave Che io non so cosa serva Che è nella Cioè Nella sala professori C'è 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 quella della sala professori Che non so cosa serva Quindi magari è quella Per quello Ho capito Mi levate Prima Prima di andare E non posso Cioè Devo aspettare un attimo Perché devo fare tipo Un casino Per prenderla La chiave In sala professori Ok E andate in classe State già andando in classe No Che peccato Andate in classe Sbagatemi Quindi Che le prof Se ne vanno in classe Sbrigatevi Sbrigatevi Se ne vanno mai più Allora Sbrigatevi 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 Però poi se ne dovranno andare Troppo lontano Non lo sento Poi poi c'è La tizia Di la festa Che fa ginnastica Dentro Che c'ho fatta Fatta tutto Perché mi è arrivata Una mail per discord Sulla mia posta Non lo so Ha detto che devi cliccare lì Per rimpostare la password Vabbè Non importa Tanto l'ho già fatto Non veramente la sapevo La password Ho sbagliato Vabbè Allora Ma no Ma ho laggato Ma rip Ma no Ma sto laggando Ma no Ma raga Ma non è la live Che lagga È il gioco Che lagga Non è la live È proprio il gioco Che vuole laggarne Nella vita Comunque allora Fatemi vedere Ma cosa serve Sta chiave Allora Raga Che serve Sta card Raga Allora mi dite Che chiave è Raga Ragazzi Cioè io non le so A memoria Le chiavi Me ne dovete dire voi Un pochino Io me le ricordavo Dove erano Ma ora non più Io non mi ricordo A memoria Le chiavi E se le avranno tolte? Non penso Che le abbiano tolte Anche perché Il club di scienze Non è che c'è da tanti Eh ok Grazie Però mi dovete dire Ma è nel club di scienze Dove c'è la moto Ma sono già lì Allora Dove ti hai detto scusami Il club di scienze La chiave è già lì Ok Ho detto che fa Che entra su DSC Ah questa Ok Unlock Unlock No Perché boce Non so dove sia La chiave Aiuto Lago E mi dici il club Dove Oppure Il punto Dove Cioè Io non mi ricordo Dove il club di scienze Sta al secondo piano Terzo Da qualche parte No no Il club di scienze L'ho trovata Ah La mia scritta Che una in cucina Mi ha scritto Ecco Qua è la moto Intendo Eh Allora Aspetta un attimo Che devo fare una roba Aiuto Laica a morte Oh mio dio Non sto capendo Landy Mi sto triggerando Landy Mi ha scritto Che è Una in cucina Una in cucina Andiamo a vedere Se in cucina C'è Aspetta un piano Migliore Forse ho capito Cosa mi stava dicendo Capito Ho capito Adesso Vediamo se la trovo Di se ne frega Se incomincia Se incomincia La lezione Piuttosto me la salto Non me ne frega niente In cucina In cucina Devo capire dove Vai in cucina E sono già in cucina Ok 8 for plus Che cazzo me ne fa volte Ho visto dove c'è Nell'angolo Dove ci sono i libri C'è quella picca libreria Non c'è nulla Solo per dirvi Non c'è nulla Lo giuro Crucere il telefono Così La Precomaciarti Perché io Quell'angolo Non c'è nulla Dai libri Ma Ma Mi hanno scammato Poi l'altro Che vede Nel club Di canale Dove ti ho detto Ma non c'è Mi stanno scammando Perché Allora L'avranno tolta Di sicuro Ma se l'hanno tolta Che cazzo serve La test unlock Non capisco Quello Ma avete visto Un video recente O un video vecchio Perché la versione è cambiata È vecchissimo Un anno fa No è vecchissimo Un anno fa C'erano No ma ci sono ancora Però non saranno più lì Probabilmente Allora devo controllare tutti i club Aspetta che voglio rimetterle risposte Perché voglio diventare amica Di un delinquente Corri Ok Ecco ci sono degli ombrelli Molto carini No Ho sbagliato Ho sbagliato Non era proprio quello Bravo Ehm Boh Cioè non so che fare Cioè raga L'unica cosa L'unica cosa che ho scoperto È questa Aspettate Devo trovare il club di giardinaggio Spero non sia chiuso Perché se è chiuso Potrò ammazzarla Quella del club di giardinaggio È chiuso qualcuno? Per giocare a Minecraft Devo non per ad Office Evox Perché penso che si sia chiuso il server Perché non ci sono stato tutto il tempo Allora aspetta che ti trovo qualcosa da fare Eh boh ditemi qualcosa da fare Non lo so Mi ricordo che c'erano anche delle altre mod Quindi dove bisognava scrivere Magari quelle funzionano Come affogare Osana Ah beh È facile quello Quello lo fai Sì lo posso fare Cioè è facile alla fine È facile Basta liberarsi di Raibaru Semplicemente Però per liberarsi di Raibaru Bisogna 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 Ai questo La ganda morte Mondo Allora Sì va bene Ma se la ganda morte Io come faccio nella vita Allora Come succedeva già Adizia lì Che non mi ricordo più Ma chi Ma chi Faceva così Cosa Come succedeva a lei Che non mi ricordo più Raibaru In molti modi Si può uccidere Forse il più semplice È quello di Di Come si dice Di 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 affogarla Ecco Scusami Mamma mia Rottura di palle Che sono Sti studenti Del cazzo Li prendono Non me li prendono Rottura di palle Che sono Non mi prende Gli studenti Da sta distanza Io non posso neanche Entrare in classe Ah Quella me l'ha presa Ma 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 perché in sta classe Ci sono la metà Delle persone Che dovrebbero esserci Non capillisco Sì lo so Ho visto L'avevo vista Quella mod Cioè Non l'ho mai usata Però l'avevo vista È vero Questa è la mia classe Scusi però Non so Che devo arrivare In tempo Ma che vuoi Ma stia zitta Ho poi l'ha vista Come flugare Osana nella fontana La mia Mentre Si deve fare Il cazzo ai suoi Ok Osana È tempo Tu puoi Fai Questo Ma perché Faccio le foto Ad Osana Non mi serva nulla Fare le foto Ad Osana Ce l'ho già La foto di Osana Sì ma lagga a morte Se sto di fianco A dieci studenti Guarda Lagga a morte Non mi fa fare Neanche le foto Dio santo Levatevi tutti Dal cazzo Che mi fate laggare Cioè Lagga a morte Che cazzo Mi significa Oddio 20 fps Solo per dire Ci ho fatto la foto Alla finestra Non si capisce un cazzo Ti dice così Tra finestra Che hai fatto pure Una foto Minchia Non si capisce un cazzo Ma non si fa fare una foto Sta qua Perché hanno tutti paura Di farsi fare una foto Ma avete dei problemi Ma che vuoi tu Ma i momenti permetti Forse saranno così brutti Che non si vogliono farti vedere Oruda Oruda Fatti fare una foto Oruda 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 Vabbè Oruda non si fa fare le foto Vabbè Tanto non faccio in tempo Ad affogarla ormai Non so come fare Ah vabbè Passa che faccio la missione di Budo Allora Vabbè Mi tengo la missione di Budo Dov'è Budo Budo Ma cazzo è Budo Ma cazzo è Budo Ma Dio santo Pure Budo Ce la può fare Nella vita Cazzo No Mio Dio Non so Voxic Offline Ma Budo Non ce la fatti Io santo A me è il piano di sopra Budo Ma va a fare in culo Vabbè Lago pure Buonasera Il lag Quanto cazzo laggo Ma non mi fa prendere la sua tasca Che cazzo mi significa Perché non mi fa Ma Ma non mi fa prendere la sua tasca Non ti fa fare la sua tasca Non mi fa fare la sua tasca Che cazzo mi significa No no vabbè Cioè Devo risettare il giorno Pure Per far questa tasca Ciao Kiko Poi faccio la tasca O la avveleno Potrei avvelenarlo adesso Sì Andy Ci sono già andata una volta Però è tipo difficilissimo Fare Cioè diventare amici di Ozone È tipo difficilissimo È più facile ammazzarla Tra poco O rovinare gli eventi Per diventare amici Ci vogliono Non lo so Ci vogliono 30 anni Adesso devo aspettare pure quella del club Però ho trovato qualcosa di più facile da fare Non lo so Io sto aspettando quella del club per ammazzare Raival O per ammazzare poi Osana Oh eccola Ciao Cara Ci sbriamo? Ci sbriamo? Devi sbriare Sbriati Non si sbriamo? Ok Ci ha fatto Allora Let's go Let's go Allora Ma amici Ok 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 Mi dissocio Allora Per oggi O per oggi Osana andrà tutto bene Sì ce l'ho fatto Ho preso il vereno per Toby Così l'affogo Eh ovviamente Raival Cioè devo ammazzare Osana Cioè Quindi devo Devo di conseguenza Dar fastidio a Raival Vai Raival Vai vai Brava Raival Gigi Dai Sì ce l'ho fatto Ti dobbiamo fare La snap mod Spero che mi c'è tutti Ok Vai 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 Clara Hai in mente qualcosa Non dica dica Dai 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 Ma Ok Non c'è niente di sbagliato Nel tuo cibo Cioè Venga le porte le apre Con la forza del pensiero Raival Mamma mia Troppo forte Vai Clara Vai Clara Ti l'ho avvenenata Te l'hai fatta Sì l'ho avvenenata L'ho ammazzata Bravissima Così si fa È morta Poverina Come ti sei un super light GG Benzina Le luci sono un'opinione Le luci sono un'opinione Nel cesto Sì No perché se guarda le live Dai dietro di un stacco Ciao Ciao Nandi Dov'è il mio caro amico Chi? È il mio caro amico del gaming Ecco Perché volevo giocare Volevo joinare il tuo club Mamma mia Ti devi calmare Nella tua vita No ho sbagliato Ho fatto psicologi Invece che physical education Ho dei problemi Ma Quindi dovevo aumentarmi Physical education Mica psicologi Ma Che cazzo Cioè Ho dei problemi seri Vabbè Ho ancora due giorni Per farlo Posso farlo benissimo Mercoledì Sì Però se la gammorte Non posso fare nulla Cioè Capiamoci Ah ok Riplandi Stavo tenendo assi seriamente Ma Il Molise non esiste Non è un'opinione Mi dissocio Perché è del Molise No l'Australia non esiste Anche l'Australia non esiste Ma il Molise neanche esiste Mi dispiace E poi la terra è piatta Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Perché è del Molise Poverino Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Come la Val di Davostra Non dovrebbe esistere Un po' piccola Però cioè Più piccola Più piccola Più piccola Cioè Il Molise si dice Che non esiste Per un motivo Perché una volta Era insieme all'Abruzzo Molise Non esisteva Poi diventata indipendente Rip Ma Peggio di Samara Amici Cioè Boh Allora Hai rotto Te lo posso dire Che hai rotto Ecco Chi è che hai rotto? È il delinquente di merda Che si mette davanti E poi se la prende Ma che cazzo vuoi? Vabbè Mi ammazzo di botte Poi vedi Se la puoi ancora prendere No Sbagliato Perché sono andata Nel gaming club Non volevo fare Sta roba Ma no Mi dissocio Dalle lontre Mi dissocio Dal fatto che Le lontre Non esistono Mi dissocio Come non esistono C'è benzina Che ha detto Che non esistono Le lontre Ma perché? Ma no Eh sono degli animaletti Carini Io me ne vado a casa Senza aver fatto nulla Perché tanto Io posso Quindi No Hanno scoperto Il corpo di Raibaru Tanto non c'è nessuno Che cosa Che bagno E l'ha trovato? L'ho trovato L'hanno trovato Il corpo di Raibaru Perché una studente Era scomparsa E l'hanno trovato Vabbè Vado a dormire Mi schippo Mi schippo Un giorno Mi schippo Un giorno Andiamo a mercoledì Mi dissocio Benzina Lusco Ho trovato Qualche Qualche cosa Da fare qui Andai Ce la posso fare Mi sono liberata Di Raibaru Devo liberarmi Di quelle lì Ce la possiamo fare 3 FPS Mi piace Sono la regina Lisbetta Sembra corretto Michio Io invece Tra poco Me ne vado Allora Mi sono dimenticata Che il gaming club È sotto Lollo Oltre che C'è La Lady La Lady Diamond Manco l'avessi fatta Dieci anni fa L'ho fatta Due giorni fa Però vabbè La porto forse Stasera Che power up GG Eh no Vic Non faccio più Minecraft In questo momento Perché Oltre che Il server In cui stavo Giocando È andato Offline Quindi E non lo posso Accendere io Perché non L'ho creato io Anche perché Se creo io qualcosa Cioè Va offline Dopo due secondi Visto che la connessione Che boh Ah sì Io ho messo Ok Io ho messo Ma poi scusa Minecraft Detto Lo installato Gratis No no Cioè Per installarlo Gratis Bisogna Craccarlo Ma io No Cioè Detto sinceramente Preferiva per Minecraft Minecraft premium Che posso fare Tutto e via Cioè Eh Quello c'ha ora Ad esempio Molti Su Sanno Minecraft Craccato Non tutti Molti però Cioè Molti non riescono Ad entrare Nelle pixel Che è una Delle Cioè Delle mappe Multiplayer Fatte bene Cioè Una di quelle Fatte meglio In tutto Minecraft Però Caro Ti devi stare Tranquillo Eh Mamma mia Sì ti aiuto Però Devi calmare Nella tua vita Cos'hai visto Cos'hai visto Dica Ho visto Come Come Non so Posso dire Come torturare Una persona Eh lo so No no Come quello È tritata Usana Come tritare Usana Quella è bellissima Però bisogna Sempre eliminare Raibaru Per farlo Eh certo Cioè Potrei farlo Però Invece di affogarla Dimmi te Vuoi che La trituro O la affoga Poi Quella che ti piace Di più Quella che ti aspira Allora Innanzitutto Devo Aspetta Facciamo che La trituriamo Dai Perlomeno Rendo felici Le persone Vediamo se Funziona Ancora Perché devo Prendere il suo Dark secret Se non funziona Perlomeno Mi superi a scopè Uccidere La tizia La sua amica Per fare la cosa Ovviamente Ma ho preso La task Di quello lì No Non volevo Farmi la task Volevo chiederti Una cosa Mamma mia Tu non mi puoi parlare Aspettate Che ho dei problemi Io Con la mia vita Allora A 10 Per il provide Dark secret Pensavo fossero Solo 5 E vabbè Sì Va bene Ma intanto Devo capire Anche in cosa Che non mi fare Per Anche con Così Ma Perché hanno tutti Paura Ma Dio santo Vedi Dell'occulto Sono Veramente Improponibili Ecco tu Bravo Intelligente Se devo fare la foto Ok Ce l'ho fatta Quindi Ora Devo Ma chi è che grida Boh Non lo so Lo scherziamo è troppo complicato Cosa 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 No Non è troppo Non è troppo Complicato Find Locker Stalker And Bucky Mail On the school Rooft Alle 7 30 E magari se gliela lascio Sarebbe anche un'idea Ehm Ma ora cosa stai facendo 7 30 Quando è school Rooft Ok Ce l'ho fatta Allora Dov'è Osana 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 Cara Ti hanno lasciato Mi sono persa da qua Cosa stai facendo ora Mi sono persa Ma Ciao È tutto bene Pietro Ciao Comunque Ehm No Io niente Ho lasciato Nel L'unice Ho lasciato Ho lasciato Come si dice Cioè praticamente ho preso Ho provveduto al dark secret Cioè al Sì Lo sapevo Che mi voleva incontrare Lo sapevo Guarda Mi faccio dagliandere molto bene Sono pelata Cioè Se prendo il telefono Divento pelata Ma Ma No Il cammino senza camminare Se prendo il telefono Ok Sono pelata però Vabbè Non importa Ce ne faremo una ragione Devo andare al club di scienza Prima che arrivino le 7.30 Sennò qui quella di se ne va Tranquilli Non vi ho rubato nulla Abbiamo Lo screwdriver Che Sarebbe Non mi ricordo come si chiama E Ehm Cacciavite Ecco Che è l'arma preferita Della Yandere Sì sì Crediamoci Veramente la mia arma preferita Però poi non lo so Se è anche quella Della Yandere Dobbiamo aspettare Osana Mi pare adesso Sì ma faccio Prima Andare Aspettiamo Osana Dai Osana Dai Osana Sbrighiamoci Cioè se ho sbagliato qualcosa qua Veramente potrei Morire Boh Osana arriva in ritardo Io non ho parole Questo è uno dei metodi Che C'è Boh Non bisognerebbe utilizzare Per un motivo Perché Questo è uno dei metodi Che non bisognerebbe Cioè è uno dei metodi Che non bisognerebbe Utilizzare E' appunto Quello di Non si può Non si può buttare giù Il corpo Quando è così No Non si può far cadere giù Con il grip Comunque Perché praticamente La sanità mentale Mi scende Allo 0% E il sangue Non si può pulire Quindi lo trovano Per forza E devi per forza Essere bravo Non si può nascondere Delle prove Quindi è uno dei metodi Che sconsiglio E poi sono pieno di sangue Sono pieno Sono troppo piena di sangue Quindi è visibilissimo Che stigata Adoro Aspetta 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 Mi vedono tutti Aiuto Dimmi che non c'è Alcane Alcane Come si chiamava Alcane Alcane No Si chiamava Alcane Non si può parlare Beh tanto A quelle Gli ne frega niente Se c'è col sangue addosso Cioè Crea nulla Ah ma aspetta Mi sono dimenticata Che devo lavarmi No no Aspettate Aspettate Cari amici Tanto Non ve ne frega niente Ammettiamolo Non ve ne frega niente Allora Ora cosa fai? E Vado a Vado a Togliere tutte le prove Perché non voglio Che mi scoprano Vado a Vado a Vado a Vado a Vado a Vado a Devo anche Togliermi i vestiti Visto che sono pieni di sangue Vado a Quello di Sicuro Ok Beh ci siamo Ci siamo Tutti Ah Ma Ma tu Puzzi Ma 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 Ecco Allora Diciamo le cose come stanno No aspetta Non l'ho capito C'è Fossi Dicele Preso Puzzi Poi se ne va Sì F*** Te Non è una prova È vero Il cacciavite Non è una prova Perché Alla fine Non ci ho fatto Nonta Con il cacciavite Cioè È soltanto Ho soltanto tolto L'avento Cioè Capito La grata Della ventola C'è il cane Con quel calciavite Calciavite E boh Adesso boh Cioè Vado in classe Non so Che cazzo Hanno fatto Non posso Mettere In classe Andiamo in classe Tanto Osano Non si presenterà Ma avranno già chiamato La polizia Quindi GG Ma tu puoi fare Le tasche Dei Dei Titti Sì Tranne di uno Che non gli hanno mai Dato la tasca Possiamo Non me li dà Allora Non te le dà Boh Non lo so Beh abbiamo eliminato Osana Mi ho visto pure Come schiacciare Osana Come schiacciarla Ah sì L'ho già fatto Ma quello è il metodo Più semplice Non devi neanche Ammazzare la Raibaro Infatti Io ci voglio provare Cioè Quello lì È easy Proprio tanto Sì Ma non riesco Con me A convincere Osana A portarla Perché devi Prendere Cioè Devi prendere Il dark secret Di O fai il lunedì Che spi Tutte le conversazioni Che fa Oppure Le compri Tramite Tramite Infochan Che le prendi Tramite Il telefono Allora Forse mi prenderai Infochan Che è Forse più facile Devi prendere Anche dieci foto Di studenti Oppure Se vuoi Più semplicemente Devi fare le foto Alle mutande Allora Allora Un giorno Lo farò Perché ci voglio provare Allora Qui è troppo facile Allora No E raga Cioè Qua Tutto Non so più Che fare Guardate Prende una chitarra In mano Cioè Sono fortissima Con la chitarra Che c'è con la chitarra Suonarla Guardate Guardate Questa bellissima Chitarra Allora Io Non la posso vedere Io Come la vedo Tramite la live Allora C'è No Non puzza Tu puzzi Ti ho sentito Eh Allora 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 Eh Non arriva Gli studenti Come faccio Ad ammazzare Le persone Con la chitarra Cioè Volevo dire Suonarla La chitarra Ehm Ah Quella Chitarra Molto bella No Come chitarra Non ti piace? Sì No è bella Posso che Allora Faccia qualcuna Bella Cioè No 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 Ma è vero No no Io faccio No state zitti Io faccio parte Della Come ti è Tu lo sai Se faccio parte Della Etimes Club Ti hanno detto Tutto Ti hanno detto Tutto Della mia vita Sì Scusami Mamma mia Mamma mia Ste persone Veramente Non si fanno Mai gli affari propri Devo sempre Per donare le persone Delle azioni Che fanno No 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 Ne Ma Ceofi Guarda Allora Allora Cos'è che hai detto? Ceofi 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 Ma non la vede Ma non la vede Ma si stupida Ma non la vede Ma si stupida Ma non la vede Ma si stupida Sì è una demente Ma è una demente Ma non ci vede Cazzo di problemi hai Cazzo di problemi hai Ragazzi Ci sono i dati Di tarmi Di stanza Cazzo 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 Beh sente Hai rotto le bandane Sinceramente Basta Hai rotto Le cazzo Sì è una demente Ma di tarmi Ma di tarmi La riprendere Se non Se non vi dispiace Cioè Aspetta come Vorrei Imitare Di No Zia zitto Non hai visto nulla Zitto Ma mia Oh la gente Ma i affari propri E si fa Minecraft adesso Ma lo faccio Minecraft Anzi no Ma io devo staccare adesso, cioè che faccio Minecraft, lo faccio dopo Minecraft Cioè dopo non in live, però dopo gioco Prima faccio i compiti, poi gioco Tanto devo fare solo poche cose Non mi ricordo che devo fare, seriamente Ah sì, devo fare in inglese, vabbè, inglese è facile In inglese? Scienze, no? Presi delle delle medie Allora invece sì, devo fare pure scienze Per l'ottura di palle devo fare pure scienze Ah è vero, magari se mi vesto c'è un altro, scusatemi Cominca Pasqua Mi fa fare due ore al giorno in Pasqua Poi sei cazzato perché è in inglese, non è più facile Sapendo bene che non hai entrato alla scuola Ma è per grazie alle feste di Pugnone che sono stati facendo Perché non c'ha ragione Perché ha fatto le pugnioni in una palestra Tutto dove erano tutti ammassati Ma io vi chiedo anche a che cazzo di ragionamento Ehi, senti il riporto dei casi che hanno segnalato a Carmagnola Vi ne andate? Ciuffa Ciuffa Ah, è rip Sharon, non puoi andare ad un'altra parte che si sente... No, 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 non ci sta credere Mi ha visto la prof Mi ha visto la prof Non ho parole No, no, non ho parole Mi ha visto la prof Prof, mi aiuta, mi ammazza Non ci sta credere Mi ha visto la prof Ma dov'era? Merange Vabbè, io non dico nulla Non dico nulla Non ci posso credere Ma vi sta la prof E mi aiuta Ok, affari in culo Non ci posso credere Oh, Dio Ciao, Fii Vabbè, comunque Ma posso anche staccare Bene, perché è arrivato Ophi Per quello che volevo andarmi Ah, ok, capito Comunque ciao